Wing Chun. Non solo combattimento, ma cambiamento di vita. Prima di iniziare lascia un mi piace e iscriviti al canale. Il Wing Chun, tradizionalmente noto per la sua efficacia in termini di autodifesa, va oltre l'aspetto fisico, promuovendo un percorso di crescita interiore e di autoscoperta. Quest'arte marziale, radicata nella filosofia orientale, insegna a trovare l'equilibrio tra mente e corpo, enfatizzando la necessità di armonia interna per affrontare le sfide esterne. Attraverso la pratica del Wing Chun, l'individuo impara a canalizzare la propria energia interiore, sviluppando una presenza mentale acuta e una maggiore consapevolezza di sé. Questo non solo migliora la capacità di difendersi fisicamente, ma offre strumenti per navigare le complessità della vita quotidiana con maggiore sicurezza e determinazione. Ti è piaciuto il video? Commenta, iscriviti e lascia un mi piace. Grazie a tutti.